Venerdì 13 maggio l'Aquila si tinge di rossa per il passaggio della settima tappa del Giro d'Italia 2016. La corsa prenderà il via da Sulmona per giungere a Foligno. I corridori scaleranno le volte di Popoli, attraverseranno poi la piana di Navelli e arriveranno all'Aquila percorrendo la Bazzanese. Attraversato il cuore della città, la carovana proseguirà lungo la strada statale 17, quindi il passaggio da Copito, poi Vigliano, Sella di Corno, la discesa verso Antrodoco, Rieti, Terni, raggiungendo infine Spoleto e Foligno. In particolare il percorso di gara nel territorio del comune dell'Aquila comprenderà la strada statale 17, lato San Gregorio, via Girolamo da Vicenza, il circuito di Collemaggio, viale della Crocetta, via Blneto-Cencioni, via Panella, viale della Croce Rossa, viale Corrado IV e la strada statale ancora 17, stavolta direzione Rieti. Considerando che l'ingresso nel territorio comunale della Corsa è previsto per le ore 13.15 circa, l'interdizione alla circolazione delle strade interessate andrà dalle ore 11 alle ore 14.30. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha annunciato per l'appunto che venerdì resteranno chiuse le scuole di ogni ordine grado, per motivi di ordine pubblico, commentando poi il passaggio del Giro d'Italia all'Aquila. Quella di venerdì, spiega il sindaco, sarà una bellissima giornata di feste di colore nel nome dello sport e del sano agonismo. Già dalle ore 9.30 nel parco Polzinelli, di fronte alla Questura, in attesa del passaggio della Corsa, prenderanno il via una serie di iniziative che vedranno l'esibizione della banda della Scuola Media Patini e degli sbandieratori del gruppo storico Città dell'Aquila. Invito pertanto, conclude il sindaco, sia i ragazzi che le loro famiglie, a partecipare numerosi e a salutare tutti insieme i protagonisti di questa bellissima avventura che è il Giro d'Italia.